Rettata dell'FBI contro Cosa Nostra negli Stati Uniti, oltre 40 persone arrestate sulla costa orientale, presunti affiliati alle famiglie genovese Gambino-Lucchese-Bonanno. L'operazione è scattata dopo anni di indagini. I reati contestati, estorsione, usura, traffico d'armi, contrabbando. Tra gli arrestati secondo i media locali, il boss di Philadelphia, Josef Merlino, catturato nella sua residenza estiva in Florida, e il 23enne John Gotti, nipote del boss John Teflon Don Gotti, l'ultimo dei capi mafia Gambino, la base dell'organizzazione criminale era New York.